Ok pare che ci siamo pare che ci siamo ok ragà c'è gente qua lo shop Io non so manco dove sto Quali soldi costa 6.000 uno appena atterrato Allora fatemi ambientare un attimo che capisco dove cavolo siamo cosa devo fare È una location tropicale Ok poi? Antica Antica Mamma mia Quanti quanti quanti? 3 Tutti dentro Non è qua non è qua Allora li prendi dai dietro Craccato quello Mi da troppo comunque Ragazzi ci sono i saldi e mi potete arrestare gratuitamente Qua No 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 non voglio morire cazzo No 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 che mi salzo Vai Alan è tuo È lì sì minchia è lì dentro Non so c'è no 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 non lo sono morto Gassi iniziala Cazzo È lì dentro è lì dentro occhio Tutto a destra tutto a destra Alan Bravissimo Ragazzi di luce andate verso lo shop eh No non ce la fanno non ce la fanno è fuori lo shop Ah quello che è quello si Quello si come è capito Ma quello che ti hace castro quando costo sempre 4 mila per me cazzo è proprio un cazzo pari se le mani ammai che lo vede non ci sono stati brutto ritardo non posso perdere ea brugna ora giusto mamma mia come scopo abbiamo gente e coppia avanti ragazza c'è della pirlanza in me scudatissimo quello che ha fatto ale mamma mia brugna ritorna verso adesso serve una mano dove dove ho finito i colpi se mi dai assalto dritto per dritto riesce a darmi assalto per favore buonanotte addio amici brugna fai un altro shock ma io sono morto anche non posso andare no 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 piastrati maledizione piastrati fancule le piastre mannetto i filippi a tutta una baldracca che ha detto vacca puttana baldracca ho detto scurridi forse brugna non è che mi piace onesto oh che è sta roba eh l'hanno preso aspetta perchè mi ha troppato qua e brugna è la ma ho fatto due kill però dai buono davanti brugna occhio vedi ti sparo no sì 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 ora sì ora sì era fermo era fermo cazzo eh va bene caricalo caricalo carica il fucile carica il fucile carica il fucile carica il fucile ma che cazzo te ne frega hai mossi innaggando il fucile ma io che cazzo devo fare io sono in pieno zone cerca ah tu sei scicione eh ma è proprio che mi fa c'è un cazzo qua sotto comunque quel cazzo di cecchino che mi avete fatto fare fa schifo alla minchia non credo che alla minchia piacciono i fucile e là e là e là no neanche io dai ma dai mi sembra un po' una tralata che uno stia di fermo a fare non so cosa stavo aspettando la tralata qua sì ma mi aspettavo parlando per terra giusto servito da chi in grande Ale dipende di nuovo tutto da te eh 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 i miei personaggio dice no mi sa che sono morto però ci pro E qua è tutto Corri verso da giù Si può andare in acqua o no? No, no Allora, che cazzo serve se gioco? Vai giù a sinistra, vai giù a sinistra, vai giù a sinistra No, no, torni indietro, torni indietro, giù a sinistra, giù a sinistra Vai giù, vai giù Dentro nel tunnel, nel tunnel Alla tua destra Ma c'è anche quella, già che ci sei Dritto davanti a te C'è uno sciacallo Vai dritto davanti a te, vai dritto No, entra dentro No, l'ho capito, ma c'è uno sciacallo Ma cazzo te ne frega dello sciacallo Dove vai? Cazzo viazzo, pirla Aspetta Allora, poi iniziamo a risultare le madri Ehi, ragazzi, calmi No, ho risultato le cose Badiamo, badiamo Ale Per darlo a chiedere assolutamente il banco sul gruppo Che devo fare nel tunnel? Che c'è nel tunnel? Mi pare di arricchere soldi No, non c'è niente Che c'erano? Aglio, tutti i pazzi Per me c'erano Ammettetelo che c'erano, ragazzi Non da questa parte, dall'altra Eh, zetta Quanti soldi? Zetta Ah, scordi Striscia, striscia Che la rischi Che la rischi La faccio, vada Eh, la faccio, la fa Vai, vai Perché non ha più le cazze? È sotto, è sotto Ah, bello, è col cecchino, maledizione Ma uno shoppino Nelle vicine, vini Quello è il più vicino Ah, ma è quasi l'ultima safe Bene Stiamo proprio bene, ragazzi Complimenti No, infatti La portiamola a casa Che è una vizia Ma quella cassa ti faceva schifo? Non ti piace Eh, no, mi piace il caff Io lo sapevamo già Se per questo Vabbè, c'è chi piace Chi piace e chi non piace Che cosa? Ti piace Che ti piace Che ti piace un garippo Pocchio Oh, 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 oh Non ti ammira Vai, 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 vai È una mira di merda Però, porco tuo Aspetta Aspetta la grippo, Ale E te la mando No, no, no È quello che vuoi Che imbarassante Eh, no Aspetta Devo cambiare Fermatutto Che cazzo è? Aspetta Che devo cambiare Quel cecchino Che fa schifo Maledizione Il dell'anno Signori Il dell'anno Scusa È meglio un tattico O un cecchino? A me Connetti le parole Ah, no Mi stavo schierando La voce Perché quello Lo mette fuori La voce Corri ragazzo da giù Ma quanto è brutto Ma quanto è brutto È diverso Che è che pippa qua? Ok Aspetta Come cazzo funziona? Così? Tu non so Scusa Io ho sbloccato Un mirino diverso Facciamo questo Ma scusa un attimo Perché dice che ho usato 9 slot su 10 Ma sono tutti occupati 9 slot su 10 Come è possibile? No, perché nel momento Effettivamente Ma Mi faccio domanda Ho provato a mettergli Il cazzo di arma Ho messo Non ricordo più Il Garand Ho messo O meglio Fucile a 3D Eh vai Faccio il 3D Dove vai? Gente che entra Gente che Perché cambio operatore? Come si cambia operatore Qua in sto mondo? C'è Non cazzo È tutto bloccato Ma perché l'operatore È i livelli Adesso ho visto Eh Stavo cambiando Allora va cagà Preparate l'attrezzatura Atrezzatura Atrezzatura Ma questo è meglio Amici Nemico C'è un soldato nemico Spostarsi in questo punto Capire le distanze Questo è un dirino No no Non ho comprato Vanguard No Benissimo Benissimo Sparato niente Ecco cos'è Ok Dove si scende Ragazzo Mi arraggia A comprare il gioco Solo per Exparare le armi Mannaggia Hanno colpito L'erro 18 Stiamo precipitando Precipitiamo La campagna è multiplayer La campagna è multiplayer Fig Ragazzi tranquilli Apro io Ho parto Ho parto Ma era un Nero incappucciato Ma era un'altra Qua la camping verde Ce finiamo Brugna di certo Sì Brugna Quando ti fai il PC da gaming? Da gaming? Quando stavrò tempo Puoi giocare Alla sera No Perché dobbiamo giocare A GTA insieme Ti voglio su GTA e USB Sì ma sai che mi arresto Non dopo tre secondi Che sono entrato in lobby E infatti tu devi evitare Il poliziotto Oh Questo mi finita Dopo tu Tu hai L'allamento di marijuana E finisci che sia E finisci che sia E finisci che c'è la centrale Che dico la no E poi gli vengo l'altra E mi fai E mi dai una bottiglia Degli olio buono Mi dai E io Ragazzi ma porca pupazzola E tu E tu mi dai le bottiglie Degli olio buono Ah Oh mi è tutto assicurato Bellissima l'artista Degli olio buono Oh Dark farefatto? Non ha capito un tubo per me Mi cagano un tubo E poi il vetro è rotto raga Qua sono entrati raga Dark Eh volevo riprenderlo Se veniva a giocare qualcuno Dimmi che è successo Ti ho detto che Ti fai il tuo allevamento di Maria E lo spacci per azienda agricola Ti faccio il carabiniere E vengo da te e dico Eh mi dai una bottiglia Di olio buono E facciamo passare tutto Cazzo sta dicendo E' un po' di olio buono Cazzo di fucile è sto cosa? Ragazzi prendete questo E' questo Minchia che chiantata Io io Sto provando le armature Chiamiamo Chiamiamo una B raga Vieni tu Non è meglio comparti corasse Non è meglio comparti un'unizione Non c'è un'altro No l'ultima Non è che una corasse Taglia due 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 Non c'è tu per via così vediamo dove stanno i piripicchi Tira 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 Vuoi tirare subito Ah! Piripicchierò Lo vedo uno Atterra uno Fatto? L'altro è da sinistra Viene Di qua Qualcuno che viene qua a me E' uno da solo Sto scappando Un sceme Oh shame Lo vedo qua Stato Eh raga è da solo Andiamo tutti insieme E adesso lo facciamo Dove sta? Di qua di qua Ping Di qua di qua Ci sono dieci ping Dai ci sono tre ping Eh appunto Ok ragazzi questa qua Questa qua è la modalità Solo Una mano E' lì? No 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 Una mano Bella eh? The dark Questa puntualità qua è Quella di solo Vanguard Solo a vecchie Solo vecchie E perché c'è da fermi che di una roba? Cazzo è un colpo, è feritissimo Eh Brugna ce l'ha dietro Che cazzo è lato? Dio Gesù Ma non è solo raga? Che culo Vai Brugna sei tutti noi Noi cosa tutti noi? Rincassinato completo Ah è fatto solo danna col filo di prota Perché avevo la fermita di Mother Wars Perla Vai via vai via vai via siciliano di cazzo Com'è che mi mandiscono? Ma quindi che cosa è successo? Non ho capito Uh bello l'MP Ah è morto Non catturano schietti Tutti siamo morti del mosso solo tutto Tutti siamo morti del mosso solo tutto Avevo ucciso, avevo ucciso il secotto museo Comunque Qualcosa la funziona Aldo? Il cosa? Il cosa la quello del Il bot Sì Quanto è bello senti Se raggiungo quel coso Se raggiungo quel coso come si chiama? Che straffa Signori io faccio questa Poi a dormire perché Io non la messi da ora Va bene Va bene Va bene Grazie Povero ragazzi uniti sangue e terra Sì che? Io ho sentito tutto a scatti quindi non ho capito una mazza Ha detto sangue e terra uniti Ok Ok Ah Gigi Che cazzo Comunque Alan Mi senti? Ora mi senti? Sì ti sento ma Poi dobbiamo settare bene il microfono qua Che eh Se no Ciò che dico io mi sto usando solo le cuffie Una confusione Se no la devo buttare Capitano mazza che hai detto? Poi dobbiamo sistemare il microfono E il tono Devo buttarlo Ah perché? Che c'è di male? Eh non lo sto usando Sto dico ma lo sto usando solo le cuffie Perché non ti sentiva niente Ti ricordo Ah ok Va bene vai Va bene così Dito di te Dark Dito di te La turnatina Devevano stare uniti Uniti Come usando le due terra Uniti Sì ma non puoi laggarmi Lobby di merda No vabbè In lobby è normale che lagga No non è normale Non è così tanto No Dico In Questo è normale In pro lobby lag Allora Che sia normale che lagghi è una cosa Ma che dovrebbe laggare no Dico al momento è normale Solo qua Solo qua lagga Eh mi è fatto così E' fatta apposta che lagga No Pingo Un altro posto Tranquillo Un nero col cappuccio Vai Allora Andiamo Qua Scusate Quale montagna Mi son perso Ok quella La ricercato Ma ci arriviamo a ricercare La montagna è tipo Superstore vecchio eh C'è sempre macello Quindi mi raccomando Come giochiamo sempre Sempre uniti Sulla perché abbiamo Pincato Il contratto ricercato Non vuoi dire che dobbiamo farlo Farlo per chi potrebbe prenderlo Come Alessandro Il cazzo vuoi dove scusa L'ho pingato Ho pingato Ho pingato Non l'ho pingato io Tu non l'hai pingato te Io vedo che cosa l'avancione Scudatissimo se qualcuno lo vuole prendere Ah 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 Beh E' un po' lontano Per prenderlo con le mani Prendilo con la bocca bro Ma quanto lagga Cazzo Ah siamo morti comunque C'è la terra tutti qua Ma lagga proprio eh Ma lagga proprio eh Oh uno sopra Scudato scudato Chi c'è con me Ma Brugna Perché scappi sempre Perché andano a prendere le armi Cazzo Cazzo Devo essere messo impedito Per la pistola Perché ingaggi sempre No era sopra di noi Mamma mia Ma io Si ma Aldo Tu non puoi dirmi che è normale Dai porto giù Sì ma raga Audio audio Non si può giocare così E muori Guarda che Dark Rider ma ci sarebbe da piangere? Ci sarebbe tanto da piangere Questo è sempre da griffare eh Una terra una terra qua da me Eh si Gabri Anche perché Brugna scappa Ma cosa Traccato qua Lugna c'è C'è gente da dentro Lugna c'è gente da dentro Lugna c'è gente da dentro Eh no c'era uno prima A destra ma l'ho fatto fuori Cosa stavo Traccato qua dentro Come ha fatto questo? Oh mio dio grazie Questo era fermo Si è girato una sparanda Sta avvicinando Eh la sta ma il cazzo di amma Eh lo so Chi è Alan? Alan è buona quella Eh ma non c'ho colpi Ma che Ma che Ma veramente Ma ricercato dov'è in una caverna? Hai ricercato? Anche a distanza eh Dice che spara proprio Lontanissimo Brugna c'è la coppita assa perché non gli sede Fatto ragazzi Chi è starmi fortissimo da qua sopra Sto lasciando questo C'erci di minuto C'erci di minuto Aaaaaaaaaah Sto scendendo uno Dove? Ma si può scadere da qua? C'erci di minuto C'erci di minuto C'erci di minuto C'erci di minuto Sì C'erci di minuto C'erci di minuto Aspè, vai a 50 di ping? Mamma mia. No, è il gioco, è il gioco. Non c'è qualcosa di gioco. Ok, aiuto. Mamma mia, che fru. Sì, ma vado a giocare a GTA. Craccato la taglia. Ma dove stanno? Pingalo! È sotto sotto, sotto sotto. Ma come cazzo entro sotto sotto? Devi proprio scena. Ah! Vai a destra, vai a destra. Alan, non di qua. Vabbè, fatti la cazza, però. Vai, 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 avanza, 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 avanza tu. Bello quello, Alan. Car. Ma che cazzo è qua? Arrivo, bro. Ma io la saldo del tesoro, perché? L'ho craccato. E' sopra? Sì. Ma il cazzo, l'ha finita. Ma cazzo è salito, scusami. Beh, la manda. Ma c'è una shop qua. Ah, no, di qua si sale, bro. Quale? Guarda, su, torna, su, torna, su. Brugna, è brugna. Brugna, brugna, brugna. Ho visto, ho craccato. Cazzo. Vai, Alan. Dietro, dietro. Vai, raga. Maledizione. La brugna, perché scappi? E' effettivamente è brugna. Forco giuda. Aspetta la, carica per l'altro, carica per l'altro. E tu, è tuo. Adora, finita. Bravissimo. Bravi. Sarò con te. Vabbè, hai un sacco di soldi, forco giuda. Hai un sacco di soldi. Non morire, ti prego, ti prego, non morire. Alan, non lo so. Te ne prego. E penso che la partita con più fini vita è mia in Warzone. Va benissimo, l'importante è che non muori adesso. Oh, se mi uccidono ti giuro che vengo a cercarti a... Dove cazzo stai? E' zitto, tu. Che mi hai lasciato solo. Ma che cazzo, vuoi devo finirne uno? Resta, Dio, forco. Simba, un giorno tutto questo sarà tuo. Ok, posso andare. Vai, Dio, ca, madonna, Simba, impanata, russa. Resta. E' zitto. Resta. Ti odio, cruglia, ti odio. Può prendere un equipaggiamento per combattere meglio un nemico. Ah, ma ci sono le armi, là, raga. Mi male, io ti consiglio di continuare a usare quelle che c'hai già. Dico, prenditi fantasma, ma. Non ce l'ho fantasma. C'ho una classe in sole, l'ho fatta al volo. Oh, le armi vecchie. Ah, sì. Se ne ha marito, qui c'è un ust. Allora, io compro un autoress e vi lascio i soldi allo shop. Tanto tu compra la cassa di munizioni di ultra fuoco. Sta qua, non rompere le palle. Beh, le munizioni. Cosa? No, mi sono fatto l'autoress. Ok, ok, ok. Oh, già. Brava, pulite. Guarda, come cazzo si arriva lì? Geniale che sta la cassa di munizioni sotto. Eh, io sono... Via. Perché? Perché andiamo a prendere il loot? Siamo morti, scusa. Ma qualcuno si ricorda che siamo morti. Brugna. Brugna. Tiè. Come sei, mi amore? Basta, forse sono pieno. Oh, ma avete buttato la cassa muniziale. Ma mica me lo dite. Vabbè che sono pieno. Adiocai, spottata, porco Dio. Anzi no, aspetta, vado a prendere la grama. Ah, Ale, dimmi se hai binghi qua qualcuno, tu. Sei più vicino qui, don't. Sì, 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 sì. Io comunque, se avete bisogno, io sono qua. Due team, due team, due team, due team, due team, due team, via 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 via. Uno là e l'altro team qua. Ok, ora che si butta? Eh, sì. Io sono andato leggero. Vabbè, li vuole a scendere, me annonci. Oh, vedo uno con puntino azzurro sopra. Si chiama Dark. Tra l'altro che mi spot i nomi dei nemici. Ah, corri, buttana, corri. Buttana. Dobbiamo, dobbiamo risalire. Sì, sì. Beh, almeno, almeno non è che siamo fermi, tipo. Aspetta, stavolta aspettiamo lui, aspettiamo tutti. Andiamo insieme. Ma dove cazzo vai? Aspetta, aspetta, aspetta. No, è una macchina, no? Oh, ma c'è la taglia qua sotto, raga. Ok, non ti vengono, 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 non ti vengono. Hai fatto bene. No, è morto, è morto, è morto, è morto, è morto. Non me sono accorto. È morto perché è sparito. Hai ricercato? Ho visto i bombardieri sopra? Waaaaa. Bellissimo. Ma fanno sempre casino, sono una rotola di palle. Ma perché siamo tornati qua sopra, scusate? Eh, c'è un team. Vai, lancialo, lancialo, lancialo. Lancialo. Così vediamo se stanno qua ancora. Oh, eccoli, qui, eccoli. Eccoli, la sopra, l'è dietro di te. Faccio il giro da dietro. I liti ancora? Uno qua? Ancora lì, sono. Uno, ti ho buttato qui, ho buttato. Eh, guarda, ma era dentro. Merda, merda! No, no, da dietro, da dietro. No, no, no. Dov'è l'altro? Ti guardo, no, no. Quello che mi ha fatto a messa da dietro. No, nel senso, napoletani. No, ma che discriminazione è? Ma perché? Scusa. Vi voglio bene a tutti quanti, sappiate. No, sono a merda, basta. Discrimini tutti, maledizione. Ma che discriminano anche i miei vicini di casa, discriminano? Vabbè, ovvio, è burbero. Venga, lo dico a tutti. Ah, no, non volevo cadere. Me lo droppi quel cecchino, per favore. No, perché, certo, lo chiuso, no, vabbè, voglio... Ok, cosa fanno? Oh, raga, che fanno? Andiamo a questo shop, raga, che dobbiamo farci tutti autoress. Siccome nel agifico in viaggio, sono gli animatori naffoletani nei viaggi turistici in Puglia. Oh, ma, domanda tecnica, perché io sono passato da 36.000 a avere zero? Perché sei un pro? Non lo so. Hai donato tutti i tuoi soldi. Hai donato tutti i tuoi soldi a qualcosa. Anche io con la carta di credito io li faccio così. Fate bene, fratelli, sto. Facciamo UAV triple. No, cazzo, sto gioco di merda, io lo odio. Sei traricardato, vecchio, ma l'altro non si sapeva. Vai a fare un culo. Fogli un t-back. Ok, comprate... Veloci, 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 veloci. Servono altri UAV. Qua abbiamo gente che deve rientrare. Datemi due cent... No, cinquecento, seicento. Che cosa ti soldi? Non tutti. Tutti qua, tutti qua, tutti qua. Guarda qua. C'è uno da solo qui, se volete, e c'è un team qua. Andiamo a Pink Celeste. Vai, vai, vai. Raga, prendetevi la maschera, prendetevi tutte i cuda. Ma se non c'è un cazzo, non ho un euro. Ammi saliti, ammi saliti che mi prendo la maschera. No. Andiamo, andiamo, andiamo subito. Prendiamo altezza, questi Pink Blu. Dove sta la maschera qua? Ah, basta, basta, spendi i soldi. Contro... Ti pazzi. Tutto, tutto, spendi tutto, spendi tutto. Ti pazzi. Questa è la scelta. Dai che questi stanno lo sciocco. Ah, li intercettiamo qua, Dark. Ah no, si sta muovendo. Sì, sì, sì. Stava spostando, stava spostando. No, dobbiamo tenere altezza, Brugnano. Cerchiamo di tenere altezza. Intanto li pinghiamo. Non ci arriverò mai con il cecchino. Vi aspetto. Dai, dai, ragazzi. Mi dovete avvicinare. Uno lo vedo, è qui. Nella finestra. Dai. No, quello si è. Uno scappa. Sul retro, sul retro. Occhio, occhio, occhio. Dove sta l'altro? Sì, sotto sono gli altri. Là, no, no. Raga, però sempre divisi. Atterrato, 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 atterrato. No, no, ti stavo circondando. Uno sta scappando di là. Sei rialzato, sei rialzato. Io da qua non vedo un tubo. Qui è vicino. Vai, Dark. Dio, cane. Io ho ancora uno, Oddi. Abbiamo un team qua, no, uno anch'io. Mildo, le piastre. Non hai piastre. Mildo, non hai piastre. Dove andiamo? Ping, viola, abbiamo... Che mi ha dato un ricercato qua ed è sparito? Eh, non sei buono. Perché in aria sta volando. Dove andiamo, ping, viola? Sì. Tiro, uava. Qui davanti a noi, qui davanti a noi. Oh, si sono spostati. Ok, lo vedo. Di qua, di qua. Una terra. Ho fermato. No, no, ne ho due, cazzo. L'ho fatto. Arrivo. Uno. Poi il ricercato dobbiamo prendere. Il ricercato è questo. Li vedo. Ma come fa ad un essere assolto? Sì, vieni qua. Ma perché non muoiono? Vabbè, raga, tutti insieme, tutti insieme. Dai che stanno tutti dentro la casa. Uno a terra. Fatto. Non lo facciamo scappare a quello. Uno si è arrestato. È craccato, è craccato. Dove stanno in questa casa? Uno è qua dietro. E no. Ragazzi, a me c'è uno colpi cecchino, se ce li avete. A me sembra un po' più assolto. Se vedi, funga. Funga, funga, funga. Funga, funga. A me dammi i colpi cecchino. Tieni, tieni, trito io. Sono colpi di grossa. No, no, li lasciamo scappati stanno. Perché il Garand è molto forte, però finisci i colpi subito. Per me è andata sotto il ponte. Eh, in moto c'è qualcuno. Guardate, è un art on fire. Uno è fuori, è entrato. Ok. Salve. C'è un assalto, non c'è un assalto. Erano questi, erano questi. Ecco, il picefino lo conosce di acqua, il picefino. Ok, no, sono pieno, sono pieno. Tieni, tieni, tieni. No, tieni, sono pieno. Fai c***o. Previso anche questi. Devo fare UAB, ragà. Devo fare UAB. Devo fare UAB. Eh, ma è veloce, è veloce. Questa non è lenta. Ma non ce la facciamo, ce la facciamo. Hanno restato allo scioppo, allo scioppo qua. Maledizione. Dobbiamo il suono, perché non mi ascoltate mai? Ma perché dovremmo? Quattro? Lassopra, lassopra, lassopra. Azzo. Che fai doveva rimanere? No, no, non ci vuole, non ci vuole, non ci vuole, non ci vuole. Uno ha craccato. Uno a terra. Ho farmato. Ci sta un altro? Trovo di una mano, che ti do una mano. Salii! Ma vabbè. Ci sono morti. Venite qua da me, venite qua da me. Veniamo da sinistra. La... Vecchia. Ah, che mi chiede dall'altra parte? Hai fatto comprare le maschere apposta, maledetti. Sì, ma... Non è che... Se fosse... Tuttavia, se stavamo tutti insieme, li avessimo fatti tutti. Eh, mannaggia. I Filippi. No, perché spari brutto. Da uno qua da me, aiutatemi, aiutatemi. No, no, c'è gente sopra. Qua. Sto salendo, ci sto salendo. Aiutatemi, 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 aiutatemi. Uno a terra. Copritemi, copritemi. L'altro a terra. No, questo qua nel gas, ma ci muore pure. Idiota. Il resto. Il resto è brugnato, vai avanti. Ok, ok, ok. Ok. Vieni qua. Vai. No, 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 no. Ah, ok, ok. Ci siamo, ci siamo. Eh, Alan, aspetta, non andare da giuro. No, mi sono messo... Questo di destra lo dobbiamo prendere. Eh... Ce ne sono due a destra. È detto. E' ferito, è ferito. Eccolo. Uno l'ho visto. E' qua. Ecco l'altro. Ce n'è un altro più a destra. Sì, ce ne sono due. È il ping. Due il ping. Andiamo dietro il pisco qua. Andiamo dietro il pisco. Il pisco. Eccoli. Però il gente può essere dietro, no? Allora, mai prendermi da terra, ma... Merda, merda! Mi auto-resso, mi auto-resso. Qua, qua, qua. È traccato, è traccato. Che merda. Mi hanno stommato. Per mila danni. Uno a terra. Dietro, dietro! Ti ho resciato? Dietro i voi, dietro i voi. Certo, devi stare. Merda, è qua. No, merda. Cazzo. Scusate. Però avete visto che partita più... Più movimentata. Dobbiamo vincere. Cazzo, ho fatto 13 kill, raga. Il mio record. Bella battuta, bella. Porca trota. Abbandona? Abbandona. Buonanotte, buonanotte. Cazzozza. Tutto colpo di Bruni. Un corde. Come con corde? Un corde di tutto. Sbloccata. Ragazzi, buonanotte. Ciao, ciao. Buonanotte, Bruni. Ciao, bro. Ho sbloccato la S44. Quinto, caro. Intero. Bello. Casermo. Ciao. 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 Allora, che cazzo è il titolo, giocatore? Baby, baby, boy, baby. Tutti pazzi. Ciao. Boh, invitiamo a cosa? Come era? Giamba? Ho invitato a Giamba, se no vediamo se... Cazzo, però 13 kg arrivare quinti, ragazzi. Puttana zozza. Favamo andare a sinistra. Ma, ragà, quelli là, cioè, se stavano... Quelli là sono quelli di prima, la regola. Oh, no. Quelli là che abbiamo trovato... Il problema è che eravamo fuori safe. E' fuori safe, visto che c'è causato problemi con... Sì, ma se li avessimo fatti subito, ce li avremmo fatti. No, no, se è quello del problema, no. Noi quando siamo andati a fare quelli a destra, gli ultimi, c'erano gli altri sopra a sinistra che ci hanno fottuto. Eh, vabbè, allora, ogni volta è sfiga. Ah, vabbè, aggiu. Vabbè, comunque, è stata una partita più decente rispetto a quella di più. Assolutissimamente sì. Tutto a merito mio, comunque. Vabbè, il tuo ha i 3400 danni, 13 kg. Io avevo i 2008, 34 kg. Quindi, vai tranquillo. La mia è per potenza. Che palle. Allora, la cosa buona di quel mitra è che faceva i buchi. L'altro problema di quel mitra era il mirino. Cioè, da vicino era improponibile. L'ho staccato, ha staccato la gemba. Ok, intanto aspetta che modifico la... Gemba non c'è. Mi metto una mitraglietta. Che mitraglietta abbiamo? Oven. PPS che non ce l'ho. C'ho lo stan. Sì, non lo so, raga, volete scrivere su coso? Tomy o MP40? MP40, fin quando non sbocchi il PSH. A me lo so, raga, mi basta. Io ho il senicchio. Questo di ottica è? Mi serve da vicino, quindi niente ottica. Comunque c'ho diverse e buone clip per incriminare Brugna, eh? Delle sue scappatoie. Di quando scappa. Ah sì, ma mi ha lasciato morire poco fa, maledetto. È un bastardo. Con giù d'atterrata uno, me l'ho capito, ma c'è un pezzo di inverter che mi spara con la pistolicchia. Uccidilo. Ah, dai, eh, ragazzi, vuolete scrivere su te, non so se c'è qualcun altro. Io torno subito di nuovo. Anche io, vai, vai. Vai, vai. Ma, quando questo? Ma questo è un mè, perché... Figono. Ma abbiamo qualche mimetica. C'è un cazzo. Ma è buona l'STG o è meglio un'altra? Aspetta, le devo guardare perché non mi ricordo. Allora, STG. L'STG44? Sì, è buona. Però io poco fa ho trovato... Se la uso quella mia... Fa abbastanza cacare per... Quella personalizzata mia che fa cacare perché non ho perk. Però ne ho preso una da terra blu ed era da lontano precisissima. L'STG? E non troppo, però era abbastanza precisa. Sì, sì, l'STG. Io uso però la S44, mi sembra sia. Buona quella? Quella sì. Meglio dell'STG? È buona da vicino, discretamente da lontano. È che l'STG l'ho già un po' pompato, dici? Ce l'ha già un po' pompata, però se... Mi sa che c***o si... Tutto a cambiare la pre... Pre-definita. Se non è Stalin, questa. Aspetta, devo cambiare. Questa adesso è... Che cazzo ho messo? E lo metti qua là. No, non l'ha già. Già. I tasti. Non me ne avevamo tolti. Mi faccio domande. Allora, vediamo, c'è qualcuno online? No, non l'ho mai. Però poi scrive, risposto solo Kika e fa siamo quattro. Mi ha mandato in dito medio. Ho detto, mi sento offesso. Ma raga, vedo... Mi hanno invitato, vedo chi stanno questi qua. Datemi un attimo. Bye bye. Mmh. 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 Ma sì, è giusto, ve lo voglio vedere. Cazzo no, potevamo vincere poco fa. Vabbè, non vincere no, però. Vabbè, vincere potevamo... Ma che cazzo è uscito? Cazzo. Bello. Mi piace. Niente, erano due. Quindi? No. Un triplo. Tresetto. Hai. Tresetto. Tutti i pazzi per RDS. Comunque Alan, poi facciamo una cosa. Quel botto lo mettiamo pure sul canale. Sì. E aggiungo pure il tuo canale, così. Sì, sì, ok. Ma... Dove le passano? Bisogna mettere il link del canale, poi, giusto? Cos'è? Bisogna inserire lì. Ah, il nome del canale, poi, giusto? Sì, sì, fa per no. Wow, 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 wow. Ubbis, ubbis, ubbis. Ti freddo ogni giorno? Muori. Muori. Ti freddo, ma stai sudando? Prendi una tisana, e poi muori. Ma è bella questa. Finisce che sempre tu muori. Ti freddo, e poi muori. Grazie, sto facendo. E questo, anche voi. Mi mangia il solello. Non rolate l'andrezzatura. Ti freddo. E questo è un STG? Aspetta. Scusa un attimo, ma sto STG rinculo inesistente? Sì, è buono per quello. Però, l'automation è buono, super livellato. Quindi ti consiglio di livellarlo, ma che è... Tanto che tu avrai il multiplayer. Sì, ma tanto il gioco a mia nipote è molto. Eh, appunto. Che culo. Wow, che schifo. Quanto cazzo riesce a laggare? Quanto cazzo riesce a laggare? Sì, lagga tantissimo. Fine dell'allenamento. Vediamo cosa avete imparato. Comunque qua, qua erano cose con le armi, eh? Cioè, sono tipo mezzo buggate le armi. Poi ti faccio, se lo trovo, ti faccio provare un'arma che ti mette a piangere. Chiama AMG. È un mitraglione. Che conosco. Quella che ha pagato? Conosco le AMG. Quella che spara a fatti suoi. Nel senso, tu spari dritto. Quella... Dove scendiamo? Scusate. Onde ci siamo arrivati a Loro? Andiamo a salti maio. Ah, infatti è me qua, però. Siamo con le case, avviciniamoci, vediamo cosa succede. Ah, io mi sposto qua. Uccidete i nemici senza che lo passano loro. Ah, poi c'è un pompo che è a cursi e se spari a distanze elevate sotto per da raider. Non ho trovato una fottuta arma. Mi sa che è sceso uno qua più avanti a noi, eh? Io un'arma non l'ho trovato. Dove c'è lo sciacallo un'arma non c'è. E' un team dietro, raga. Porco. Tagga pure a voi, vero? Sì. Eh, vabbè sì. Mi serve un'arma, non c'è un'arma. Eh, una verso di voi. Ah, ok. Prendiamo questo qua qua sotto da solo, raga. Aspetta che arrivo, aspetta che arrivo, aspetta che arrivo. C'è, sto uscendo, sto uscendo, sto uscendo. Eccolo, sto attraversando il fiume. No, stanno andando a tratti, raga. No, sembra a te. Oh, mira questo, eh. Eh, ma non c'è un'arma, c'è una pistola. Allora, lo dovresti avere sulla tua sinistra, lo dovresti vedere. Non è quello il punto, per me vanno attratti davanti. E anche a me, l'aga tutto, forse il duo. Cioè, non c'è un'arma. Mi ho preso uno, l'ho colpito uno. Ah, no, 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 no. Ah, ma questo non è un check-in. Ah, ma che cazzo ho preso? Uno qui dietro. Eh, quello l'ho craccato, mamma mia, la zero. Copriti, 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 copriti. Quello scende, è sceso. Sta arrivando, mi sa. Arriva, arriva, arriva. No, Rerè, non sto laggando tutto. Vanno attratte la persona. No, come questo gioco fa cagare, cioè, porco più, puoi far laggare? No, no, veramente, ma, a me andava tutto a tratti. Io vedevo il tipo che faceva, tipo, laggmail. Brutta sta, brutta sta robbia. Poi poi finirà che usciremo e sistemeremo il microfono. Boh, bobo, bobo. Boh, bobo. Beh, ci sta fega. Cioè, fega. Guarda come lancia la pietra! Ah, ci sono scelte le pietre, giusto. L'ho dimenticato. Guarda come le lancia. C'è anche nel gulag lagano Sì, pure nel gulag Ciao, che ti aiuto Vieni all'altra destra Te lo ritrovi di fronte A me chi mi aiuta Il signore ti aiuterà Ragazzo Bene Minchia, chi è che ha preso quel contratto? Niente Eh, io prima fai sbaglio Andiamo al power plan Power plan Io c'ho il pompa, te lo dico Eh, io c'ho la mitraiglia di... L'assalto di merda Meglio del pompa Sembrerebbe da fare Qua a sinistra ha già trovato i soldi, è sicuro Dico vicino allo shop Ma già ce li ho Oh, c'è gente Ne ho due Ne ho due E c'è proprio il fottuto Pompato il cazzo E' un full team Io scendo qua Prendo due armi e arrivo a darti la mano Tanto te l'hanno visto restare Stai già sparando Ho chiudito a destra Maledizione Dovevo caricare pure se Lo sta restando Lo sta restando Finito L'altro ha stato E' uno solo Non sono riuscito a finire Ma fuori il muro Davanti a qua Qua davanti proprio Questo è quello full Dietro dietro E' qua terra E' qua terra E' qua terra Ti avvita E lo so dove lo carica Uccidi, uccidi questo Uccidi che ti pinga Buono Vai, vai, vai C'è pure soldi Eh amici tranquilli È tutto sotto controllo Volevo fare con la pistola Veramente Però poi ho detto No Non faccio la figura di Mert Levi? Non funziona Oh Levi Che culo Attacca a graffo C'è questo Ci sono armi? Brand blue Buono Da buzzica 40 ND Non prendete sta arma Che fa cagare Corazza 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 No, sto pieno Corazza Parano munizioni Corazza E' dentro sta La regola Era tutta da luttare Qua hanno luttato malissimo Non lo so che stavano Per stavano aspettando Da alan Questi Oh, che stavano Sì Bravo Sto lasciando questa Ho 10.900 Il drop Ah, ora possiamo prendere il drop Aspetta che ci cade ora Nel senso Come chi ti sta Non sto facendo niente 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 Ah, sei d'arrivo C'è una nuova zona sicura Com'è il type Il type 11 com'è? Ho presentato l'arma Meglio il type O il Wokestuk Struckenbroken Il Volkswagen E' buono Meglio il Volkswagen Ok Ok, il Volkswagen Vedi come entra in mira Vedi come entra in mira Alan E' una babosca Che è? Che cazzo è sta roba? Assurdo Vede base Immagina se gli metti i perk giusti Per farlo ancora più veloce Ma non fu certo Ma tanto lo riusciamo a prendere Io ho preso Idem con Pataten Io c'ho il Wackenbagger Aspetta ma anche un capito Sto lasciando il 5 corazze qua raga E' che mi sa che è quella l'arma Alan Alan Vieni Prova questa Prova a spara due colpi di numero con quella Con quale? Però fingata Dov'è? Con la visione di nostra Spara, spara dove vuoi E' la madonna Hai visto come spara cazzi suoi? Bene Dove lo prendiamo? Andiamo allo shop a fianco Prendiamo uno a V Ho uno Due Quasi sono una missione Via Devo giardare Però c'è un veicolo allo shop No? Vedri mi sembrano rotti Tutti i pazzi 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 E' pure aperto qua E' pure aperto qua Oh! E' lasciato a sinistra? E' in vola in vola in vola in vola in vola Sì vale Mi hai lasciato quello lave di eh Oh Sì scusimi Perfetto 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 Andiamo Mo' di fronte dove li pinga Lo stai lontano no Questa shop andiamo 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 a prendere quel veicolo Andiamo 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 E' sennò Non ti impari mai questa cavolo di mano Per capire di Piuttosto No no Io ho collativo Io ho io push Poi comunque Affinché non hai le persone che scappano Che ti abbandonano Capita Ti diverti Vabbè che si chiamano poi brugna E' in giù Sennò E' effettivamente ragione Vale Se hai un altro guavi lanciolo E' sennò qua Ecco Fu Ti ha due team Fightano questi Puro Sono ancora Mi mettiamo in mezzo E' mica in arrivo qua Aspettiamo a sparare Aspettiamo un attimo Aspettiamo un attimo Aspettiamolo qua Uno fatto a terra qua Troppo facile Entriamo dentro questa casa E' uno qua E' uno qua E' uno qua E' uno qua S glovebiliation E' uno qua D'un qua tanto modo per partire pure i cialdi io ho più che altro c'ho anche l'altro ecco i cialdi fuori ricordatevi sempre che alla terza safe fa i cialdi andiamo là, andiamo qui e non abbiamo più le armi e non abbiamo armi c'è questo piccolo problema io mi so bloccato dietro la finestra ho comprato nuovi, prendete i cialdi giù io non mi aspettavo io non mi aspettavo battevi l'autoress facciamoci l'autoress non la lanciare ora ormai lasciaci le armi, dammi le armi a me e poi le dai nooo perchè l'ho presa per sbaglio ah tieni no non ho pistola occhio no no è quello dell'aereo eh si lo stesso per lo stunno Aldo dimmi prenditi l'MP40 tieni uh uh l'MP40 ho trovato siiii per un'arma c'è un UAB avanzato nemico tenetene contro ah perfetto perfetto pompa mi accontento faccio un'arma qua c'è un po' di tutto ottimo ottimo qua c'è un po' di tutto io mi sono un po' settato ho un paio di armi ho un paio di munizioni ho c4 ho soldi ciò tutto fate pinta di me Alan tu hai detto che hai comprato vabbì? si qua stanno se vedo lanciano merda lì dentro lì dentro dobbiamo andare insieme uno è fuori un team è fuori stanno faiitando aspetta eh Ale non ti far vedi quando vuoi dai 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 vado aspetta ho due team sono due team ah ok 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 vado uscire li vedi tu eh ero eh ne ho visto uno ma ecco quello che sta sparando ho visto fine Alan Alan andiamo a l'est una a terra due a terra ne manca uno ne manca uno raga una mano per favola vabbè prendici ah armi raga prendete le porte prendiamo le armi di queste qua c'è un type la safe la safe fuori fuori qua fuori c'è qualcuno prendete la ua v se può qualcuno no nooo non c'è rift vabbè ci potete andare a fare niente 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 abbiamo gente qua dentro Alan occhio al di terminati prezzi tornati alla normalità ai entriamo la nostra destra giusto si bene ho sparato da dietro ok da destra uno scende aspettiamo aspettiamo occhio 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 scudatissimo scudatissimo questo due una raga ci siamo bellezza avete pure lo shop e per forza voi dovete fare uno è craccato vai vai Alan al suo vai pusha push Alan vai vai è grandissimo è adesso è io raga avete lo shop di fronte a voi se riuscite a restare si 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 ci provo cazzo ah non ci scassi si sparano dovete correre eh girate tutto a sinistra vai 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 stop ma mi sa che mi prende ah dai ce la fate ce la fate io credo in voi nel cuore mio Naruto guardamento di precisione alleato attenzione prendilo ciao ma qui piastre 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 ma non so qua si fanno malissimo eh no 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 da sinistra da sinistra a cazzo a malizia a malizia pigami uno shop che ti alzo a volo eh la riesco ancora ok dove è alto dove è alto no no io sto per morire sto per morire io ok ma non detto quello è il più vicino c'è gente sotto proprio se no c'è lei qua eh ma lì c'è gente pure perchè c'hanno due igoli vabbia stragole che tante alternative o vai da Aldo eh vai da Aldo vai da Aldo vaffanculo prova no 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 Aldo sono quelli di prima ma Grazie a tutti. 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 Aspetta, forse vorrebbe essere uno del gruppo. Allora, c'è back. She's... Adesso mi dici di nuovo gli sparo. Che palle, oh, tonnaggio a te. Eh, niente, scopo, parte. Quindi? Eh, no. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Che sta rifiutando l'offerta di entrare. Anzi, mi ha detto che sta sul desktop e adesso sono in due, già questo è qualcosa che è che il quadro non mi cosa. Adesso mi incazzo. Adesso devo mettere una gif che non usa da tanto tempo. Non. Degli STG. Degli Stig. Ho poleto. Ma chi io voglio l'aereo? Che cazzo? Tom No ma Anche spara l'aereo Senza di aver attivato un'abilità strana Che mi pinga nemici Ok Perché sono esploso? Scusate sono esploso a mezza aria senza motivo Ho fatto pure l'aereo buggata che schifo Ma queste specie di contraeree invece che sono? Cosa che è? Queste specie di contraeree Sono contraeree? Sono proprio per gli aerei Sono contraeree ok Bene dove andiamo? A vincere Yeeey Bene Andiamo a powerpoint Andiamo come prima qua Ma si andiamo là Vai 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 Non è stato malaccio Casa tetto blu è mia Vado qua Vado con le sinistre Vado qua Comunque c'è tantissimo loot Sì sempre se lo trovi C'è un loot Ho trovato una cassa a corazza Oh no Io mi chiederei Cosa andiamo? Verso la sciop Verso la sciop Avanziamo E tanto è sicuro Machina sulla destra 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 E' l'arma cassa rossa No 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 Hai trovato? Buono? Non lo so Trovo un'arma Un'bomba ripetizione Andiamo verso salt qua Salt mine Mi serve Mi serve una munizione Mi serve una macchina Zumba Porco Zumba Ma quello con la macchina Che cazzo sta a fare? Lo so Scudato Scudato raga Trovo una macchina No scherzo scherzo Vado con una pistolina e... No c'è un'arma No c'è un'arma di merda Più caldo E c'è un TG Vado ma quanto cazzo lag sto gioco Ma come fanno uscire una roba del genere? No lo so La scusa è che i server sono nuovi Ecco bravo E' quello che li salva No non li salva E' una scusa di merda Li salva No vabbè capisci Faccio una galleria Capisci quello che vu Cazzo di passaggio di merda Non è una galleria Meno scammato Ehm Ma è l'assurdo Compari con un fantasma Prende con questa banda raga Prende con questa banda raga Un'altra caccia corazza Faccio un carro Un'altra caccia corazza Vado la prendo Ma una la prendo io ad ecco Dai la caccia non è Un'altra caccia L'obiettivo è eliminare le persone Veramente Abbiamo un po' sotto qua Qua c'è stata gente Si si è piovato Prende Prende Purtate una bomba per sbaglio Scusate Prende con questa banda raga C'è gente c'è gente c'è gente Ohhhh Mi fanno andare sopra Se li vedete pingateli Datemi un ping preciso Non li vedo Eccolo Raggiungiamo questo punto Raggiungiamo questo punto Ma che sta sopra sotto? Dove sta? Nel passeggino Nel passeggino Eccolo Sono tornati la Mi sparano? Sono andando nel passeggio Io 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 Si si sono scesi giù Sono scesi giù Occhio 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 Giù dove? Da lui Da lui C'è il bazzucco C'è il bazzucco Un stronzo C'è il bazzucco Eccolo C'è il bazzucco C'è il bazzucco Non guardo più E' lì No è lì Guarda mi spara uno da sinistra Uno è qua? C'è una sinistra Sulle montagnette Tipo Ma dai Dove? Eh quello della montagnette Un altro team Eh lo so L'hai visto? Di Die Il suo alleato è finito È nulla Mia quella metretta far cacare Ma Sì Sta schiampandola Si ho notato Il merde come sta? che cazzo è andato? è sempre lì, è sempre lì guarda sì ma a questo punto si arriva a luttare a sinistra è salito sulla torretta non vuoi andare zio? no ma adesso arrivano quegli altri qua quanti erano i lanci? non sono più di uno, non sono più di uno i lanci posso venire da te? no da me no arrivano gli altri quelli con la macchina sono appena tarrati qua posso provare ad andare da dietro eh si stanno avanti comunque a destra c'è ancora luttare nooo 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 che gioco di merda che combina che gioco di merda io niente il gioco fa schifo ma questo si sapeva gli alleati sono nella zona sicura dai dove 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 pinga iniziano ah ah è andata qualche parte ok adesso pusha no? resta via piastro sei se ho messo un po' di merda qua vero? c'è un altro sul tetto occhio ho notato ritirata, ritirata è la caccia rossa, questa è buona la regola l'ufo, l'ufo, l'ufo pure è buono ma lo ripieni che per favore? è tutto il duo sta proprio qua davanti a me, 2,97 ma lo stavano sparando o sbaglio? stavano sparando con altri dis ma da dove? ne ho uno qua ah sei tu porco duo tutto a posto, tutto a posto ma sei dall'altra parte? tutto a posto l'ufo non so dove lo shop quello che mi sparava dove cazzo? ah eccolo la il merda vabbè no no occhio occhio c'è un cecchino c'è un cecchino ti vede ti vede ti vede vai via vai via punto di raggiungo stabilito sta a 3,27 circa 3,27 circa ma non mi fa... ah è lì figlio di più no 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 ti proteggo io Ma dov'è cazzo l'asporto? Ma dove stanno? Siamo presi un po' a stanno Siamo presi un po' a stanno Guarda qualche parte stanno Eeeh non lo so! Com'è che gli sto spavendo dall'altro lato? Uno l'ho visto, sotto al sinistro A sinistra, sinistra vai! Occhio, occhio! Ho salto tipo davanti Merda! Questo è craccato! Questo è il gulag! Sopravvili e riavrai la tua libertà! Vinci l'uomo e tu e tornerai al fronte! Perdi l'uomo! E' tutto sulle tue spalle! Oh! Io credo in te! Ce la voglio ancora fare! Vendici orgogliosi! E' tutto! Merda! Peccato! Che ero! Che ero! Che ero! Come arpa! Che ero! Che ero! Che ero! le cuffiette, le mie cuffie vai vai e tu veramente hai speso 1.300 euro per un pc sei pazzo, sei pazzo oh è uscita la puntata dell'area devo guardarlo quella la puntata? aspetta come si chiama mushoku tensei isekaitara onkidasu ic ok, non l'ho visto no il ci non non come bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb5 eil państwa il primo counter c'è da questo spero dsi no Preparate l'attrezzatura Bello! Bellissima la cosa. Mi è piacquata. No, mi ha pimpato l'aereo, io volevo un aereo. Cioè, è incredibile sto gioco. Il lag anche quando non deve laggare. Cioè dai, ma guarda lì! Cioè neanche quando giocavo nel 92 laggava così il gioco sul PC. Dai, non è possibile. Gioco di merda adesso. Che lag è schifo. Che schifo! Che schifo! Se non apre neanche il baraccaduto, se non apre! Oh Cristo! Dove andiamo? Ok, se pingo io pingo... Grazie. Ah sì. Io la parte in order non sono andato tipo a docks. Runaway non sono mai andato. Eh, io qua ci sto pensando. Andiamo a runaway, vai, andiamo a runaway qua. Runaway. Al prossimo giro a docks. Vi sediamo a docks. Vi sediamo a docks. La città virtuale. È saporita, è carino. Abbiamo compagnia e lo sciacallo, no? Probabilmente. No, prendi probabilmente. Cioè... Vai, andiamo più avanti. Andiamo, andiamo là. Dove, dove? Beh, stai scudato, eh. Ce n'è uno qua scudato. Vi interessa. Ha preso l'aereo, il bastard. Alan, tu volevi venire qua per prendere l'aereo, vero? Non ho mai visto che ci stavano le ara. No, ho recuperato un MG42. Aspetta che la butto via. Sì. L'ho preso solo perché era viola. Ci ho ripensato. Io vado di qua. Non so che c'è, ma io voglio andare di qua. Seguiamo Alan. Niente, mi sono dovuto prendere per forza il mitragliato. Questo. Che palle. Non ho altre armi. Eh, vabbè. Ok, mi sa che qua non c'è un tubo, raga. No, no, qua non c'è niente. Sì, con farm, ma non c'è sta la mazza. Oh, ma se prendi... in quanti possiamo salire sull'aereo? Mi ricordo. Faccio un brand. Va. Eh no, per te vuoi più l'Undor. Malan, tu lasci aiutare l'aereo? No. Ma io imparò in velocità, non ti preoccupare. Vai, prendiamo l'aereo, andiamo alla cassa verde. No, aspetta, prendo la macchina qua. Scusa, ma qua è tutto all'eluto. Perché andiamo laggiù? Ah, eh. Quello è la cassa. No, è la macchina. Sentite il gas. No, è la macchina. No, è la macchina. Perciò, anche qui, è la macchina. No! Sono caduto! Dove andiamo? Datemi un pingo che arrivo. No, lo so. Andiamo a destra, le shop qua? Ok, vai. Andiamo, 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 andiamo. Sì, e la sinistra, andiamo, andiamo. Andiamo! Andiamo, andiamo. pingo verde? la regola ve li pingo io quelli sono nemici? si si quali sono nemici? l'hai visto vai scendi cazzo te l'ha dato la patente l'ho rubata questo fumo guarda qua che c'è che è sta roba? è una cosa bella gliela puoi rubare c'era un altro di UAV qua raga buono se volete andiamo a prendere quelli a sinistra c'è anche un type 11 bello spendilo non lo puoi prendere? l'UAV no ce l'ho già ho lanciato un UAV ho preso il il cosa? il bombardo? ma cazzo ci chiamano oh stanno qua sotto stanno qua sotto stanno allo shop oh si sui bombardoni allo shop cazzo si 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 ma dove cazzo ha bombardato? ma che gioco di merda uno sta là non riesco a pingare uno sta là questa è la cazzo miostra no si io ho sparato ma no 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 nono devo fare una gaspere uau uno scende ed ii qua se ne sono due aldo uno é crackato gravi the miss a terra la auto adesso è morto o quattro dice colpi Guarda, dietro, dietro, due, dietro Nooo Questo già mi pinghava con quell'altro Nooo Questo type faceva abbastanza cacare Ah, sono in due Donna Ma che cazzo, facciamo usare un mitragliere, è una pistola veloce Mamma mia che schifo Oddio, oddio Mi sono cascato di nuovo Ah, ma tu dici Mushoku Tensei Bla 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 Mushoku Tensei Mushoku Tensei Mushoku Tensei Staj Mushoku Tensei Bak Grazie a tutti. 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 Vai raga. Vi pingo uno. Ha visto visto visto. Venite a salvarmi, schifosi. Traccato. Lasciati morire, sei troppo lontano. No, io morirò. Adesso. Non l'ho fatto quale. Io ho visto l'altro. Lo vedi il pingüero. Sì, sì. Era sopra o sotto? Non sta più. Qui, lì dentro. In quel punto là. Eccolo qui, è qui, eh? Tutto male? Che favore. Difissimo. Fatto. Per un altro, lì non l'ha visto però. Hai visto salire qua? Sì, sì. È lì, lì. Dovrebbe essere un altro Perché era a terra Non l'ho ucciso Cioè non l'ho fatto, non l'ho ucciso Quando erano finiti? Una che è lì o due tu Era a terra questo, forse il compagno è stato rialzato Non mi ha gippalli però va bene Guarda veicolo Era a terra, non l'ho finito Sotto Mi ho visti due Due? Due Io do a sinistra Sono qua dentro Cerca L'azzo uno lo vedo Pingo, pingo, pingo Vedo l'altro io qua davanti a me Sono senza munizioni Dove, dove? Molto Ecco dove Non l'ho craccato Sì, dietro cazzo Non l'ho craccato A terra Non l'ho riuscito a tua sorella L'ho ucciso Ok abbiamo fatto tutti allora Chiamato puta Oh, hanno alzato, hanno alzato qua Allo shop Allo shop Niente raga Possiamo restare Sì, sì Vado qua, vado qua però O pusciamo a questi O pusciamo a quelli Se sta andando forse Se sta andando Se sta andando Se sta andando Vieni qua, vieni qua Veciditi porca trota Vieni qua, vieni qua Ma sto arrivando Aspetta che arrivo Rapido, rapido Più veloce Vieni qua Da luttare qua Un attimo Vai, vai, vai Vai, corazza Quante ne vuoi Qua c'è un sacco di corazza Sì, sì Eh, non c'è cassa rossa Bello Carruro Eh, è bello di sta cassa Faccio una maschera Che lo, ho un UAB E lo lancio subito Faccio un MP40 E un ADP Quello, quello Voglio le MP40 Intraggiatrice leggera Trovate Un G, un G, proprio Andiamo a noi l'ho detto maschera un p40 troppi soldi però ando che qua 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 ah hai preso? a questo punto raga facciamoci tutti autoressi due secondi ho una cassa a munizioni se serve abbiamo autoress fatto, compro uovi? compro compro tieni un paio così li portiamo pure noi ti lascio i soldi Ale e andiamo verso il lancio ti lascio anche i miei magnifici 100 fate il tuo rest Ale così è a posto ho preso un altro UAV chi ne abbiamo però? io ne ho uno? io pure un altro ok lo lancio io prima venga dove? a sinistra? tutto a sinistra venga poi andiamo ok 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 allo shop allo shop sacca corazze ma lo prendo io ok io sono pronto quando volete arrivo arrivo ah ma sta sopra tu adesso no ma dove cazzo sono andato? manca devi fare il gioco largo vedi torna indietro torna indietro l'ho presa prima ho usato la fune ah no no non sapevo ci fosse la fune e l'ho presa prima però quello si trova oh è sceso è sceso davanti a noi no 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 non c'è chi non vuoi lancio il UAV lancio io lancio io lancio io lancio io visto visto davanti a me davanti a me fatto che cazzo voleva fare? non ho capito andiamo da quelli? questi qua ci questi qua ci vogliono prendere stanno arrivando raga aaaaaaaaa arrivano dalla fune occhio si 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 avete un altro UAV? no no uno è sopra eh occhio uno a terra mi ha tirato quello d'anti a me mi ha salvato il culo uno te l'ho confermato Alan ma solo uno mi segue nooo nooo vai d'altezza eh sfruttatela bene ci sto solo vai easy manca manca uno cazzo cazzo ero che è tu i coglioni voglio ogni volta ooooh è dentro 6 FC? si quantooo vado io vado io vado io e lo devo prendere comunque devo prendere anche l'anima che l'ho dovuto usare ah ok ti lascio i soldi per cosa? l'anima è gratis prendi un UAV poi lasciate a terra i soldi raga che compro pure qualcuno prenditi un rianima li lascio qui allo shop o li ho? allo shop 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 che così mi piace autores e devi essere veloce perchè c'è la safe eh dobbiamo andare via vabbè c'abbiamo il camion qua sotto prendevo il camion dai no no ma tanto non credo che sia quella veloce qualsiasi no no c'è la io devo passare dalla cosa devo passare da prendere le armi va vengo con te dov'è? avanza 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 prendo il camion e vi raggiungo ma si dai no ho trovato un grappolo porca trota ok vai grappolo a cazzo vai che funziona sempre passiamo aspetta aspetta che va via ma avanciamo a piedi eh facciamo quasi ci siamo qua ma quel sciacallo? no eeeh volendo bisogna i colpi eeeh oh oh no no solo una oh oh mamma mia tieni vediamo eeeh qua c'è una avanzata eh una avanzata raga ok grazie top non c'è uno avv ah no l'ho trovato uno ho aperto una cassa ho trovato l'avv visto visto qui vuole buona prendiamo questo sopra eh sì sì eccolo lo vedo qua eccolo lo vedo qua sciccato inoltre c'è non lo vedo mi sa abbiamo gente dietro perchè c'è un bombardamento random oh oh occhio 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 va beh qui davanti a me c'è da lì tutta l'altra parte sono merda non so che voglio ah sempre voglio oh no non c'è dietro c'è gente di trash mi hanno buttato giù agio si erano uno erano quattro si si ci hanno lanciato il random 2d vieni vieni su vieni su vieni su vieni su prendiamo il testo eh i soldi mancano 300 pia sta cazzo sta cazzo di cassa eh vieni qui sta si 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 ti da 6.000 se non sboi eh si ma ci sono anche gli altri non vorrei che non fanno il cazzo eh è random mi viene troppo da random vai tranquillo minchia è 36.000 lo dice ok eh così prendi anche il lancio per lui e voi fate fantasma io già l'ho però mi prendo almeno il cecchino mico aggiungiamo la zona sicura ma hai fatto il tuo ultimo a casa dai si 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 vai tranquillo vai tranquillo io sono fuori di tutto io sono fuori di tutto io sono fuori di tutto lascio giù i soldi lancio guavi su sopra sopra eppure gente che sale eh andiamo avanti e dietro forca troppo si una terra dietro no c'è uno assuro qua raga fai fai autonomia UAV e laurita rientro alla parte ma non c'è uno 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 Proprio qui solo la montagnetta una, la tua sinistra è regolante Eccolo Non so perché l'abbiamo fatto Mi sa che non mi sei convenuto minimamente No, cazzo, ho finito i colpi Mannaggia la marroide Corri Ma vaffanculo No Io ci ho provato Ho finito i colpi, porca troia In quel momento Lo crediamo in death Lo credo in death Cosa anche io 100 mi manca Eh vabbè ma che vuoi fare C'è una cassa E' sopra penso Ok puoi restare uno Non ho restato mi sa qua Ok puoi restare uno Ok puoi restare uno Prenditi il coso, il coso, il coso, il silenzio, il silenzio L'hai visto? L'ho visto, l'ho visto Sono due, sono due Madonna, che c'ho Le armi Ma che cos'è, il cannone Vittorioso Che fo' lo prendo? Cos'è? Io no Il, mamma mia Prova Ma prova Mamma mia Vabbè che un rest ce l'hai Stai prendo per il culo, vero? E pure la shop qua Madonna mia Noi crediamo in te, Ale Ovviamente le sappiamo Prendi la cassa matta, bravo Ma carissi a me Buona fortuna Gira largo, gira Gira larghissimo Gira larghissimo Che fai? I nemici non esistono I nemici non esistono Occhio là davanti E là davanti No, ci sono due Stanno alle shop Ah 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 I nemici non esistono No, non è ressalto No, non è ressalto Raga Sì No, non è ressalto Ma fortuna Sì Sì Non è ressalto Non è ressalto Non è ressalto Perché Perché Il bombardamento Mi ha lanciato il bombardamento Di sopra Ehi, Ale Io vi saluto Ciao, Ale Buonanotte ragazzi Ciao, bella notte Grazie Ciao 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 E Alan diceva Ascolta Io da code sto staccando Perché mi gola Più a giocare E Se tu vuoi continuare a giocare Stanno Luri e Lepro No, no Stacco anch'io Mi guardo l'aria Mi vuoi dare un attimo Una mano col microfono Vediamo se riusciamo al sistema Eh, fai Se vuoi Proviamo Ok Tanto sono live Così vedi direttamente Il microfono di là Ah, resti live Comunque Sì, sì Stanto Ok Ok Io invece la stacco E la mia Boh Niente Tanto nessuno mi sta seguendo Come al solito Quindi ringrazio me stesso E niente Buonanotte Ne vien trebbio Gruppo